Le persone vogliono essere tristi, vogliono essere tristi, non felici. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Abbiamo il gusto per la lamentela, per essere sempre piagnoni, perché la tristezza tira, la malinconia fa trend, la gioia molto meno. Abbiamo il gusto per il macabro, per il noir, per il nero, per ciò che non va bene. Quando siamo tristi possiamo vantarci, un po' come se fossimo protagonista di qualche romanzo romantico, di quelli sempre con qualcuno che si strugge. Se gli va bene qualcosa si pende la tisi, oppure muore in un incidente, un po' come Love Story, che è un po' il sintomo e il progenitore di una serie di film dove tutto va veramente male. Però, com'era bello, almeno così dicono chi l'ha visto. Io faccio outing, non l'ho mai visto. Anonimo Veneziano, la prima neve, l'ultima neve di primavera, non la prima. I bianchi cavalli d'agosto. Renato Cestier, che moriva sempre in tutti i film. La gioia invece non fa trend, la gioia non attizza, non attira. E invece dovremmo rallegrarci, perché è possibile farlo. Dovremmo continuamente rallegrarci. La nostra affabilità dovrebbe essere nota, perché le persone affabili alla fine attirano l'attenzione, attirano la gioia, attirano il piacere, attirano gli altri. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè. Buongiorno